io sa storia che se annato un fissa pace e che ho una da classe tua non so si bevemela o si me stai a pià per culo ad ogni modo dato che male non te fa te do una dritta semplicissima per fa colpo su de lei col minimo sforzo e il massimo risultato mo che andate in gita che ha a scuola e passate davanti tipo una chiesa te gli butti là il nome d'ossi l'architettonico e vedi che a lei gli si illumineranno l'occhi come che ha visto a Brad Pitt de base, il barocco l'amo già visionato che è quello stile tutto arzigocolato del 600 tipo Bernini e rinascimento pure coi robe del classicismo e proporzioni a misura e mo venimo ai due grandi stili del medioevo ossia il romanico e il gotico per distinguerli segui ste semplici regole, primo l'arco, se l'arco è tonno è romanico, se è appunta è gotico, se il popo poi strafà quello tonno si chiama tutto sesto, quello appunta a ogiva inoltre vedi che nella chiesa romanica è più semplice, mattoni, poche finestre piccolette, soffitti non troppo arti, tutto proporzionato come nell'arte classica romana da cui appunto è il nome che te dà un senso d'equilibrio, de pace, de regolarità e drento a chiese spoglia senza troppi fronzoli che si notte distrai e te metti a guardare l'angioletti e robe invece in chiesa devi guardarte drento e pregare al contrario a chiesa gotica si sviluppi in artezza che te vieda a guardare su e verso il cielo e li pilastri sembrano steri di fiori e tronchi di arberi che poi si aprono come li rami e tutto pare in merletto e ci sono mille robe, statuine, trafori e punte e pure le finestre sono tutte decorate e spesso pure a colori che pare no dei collane dei burgari che tu non gli vuoi regalare sta pischella perché costano troppo però gli vuoi di amo non te servono i gioielli perché sei bella puro così e questa è una dritta extra che te salva doppio quindi ecco io e basi tu ho date eppure ricordate te fai tanti complimenti che a donna gli piace si però poi dopo d'aver visto tutte ste chiese te chiede ma te te vorresti sposare una chiesa romanica o gotica io me ne lavo le mani eh lì su affari tua